Sono il professor Francesco Fedelle e in questa sede come responsabile del Dipartimento Cardiovascolare dell'Associazione Rossetti penso che sia importantissimo sottolineare l'importanza della prevenzione cardiovascolare che è un pochino relativamente sottovalutata rispetto ad altri tipi di prevenzione. Ricordo per esempio che ultimamente sono stati approvati gli screening per i diabeti tipo 1, per la celiachia mentre non abbiamo degli screening per la patologia cardiovascolare, non abbiamo screening nelle scuole per l'elettrocardiogramma non abbiamo screening per valutare lo stato lipidemico dei pazienti che è un fattore di rischio importante per le patologie cardiovascolari quindi ben venga una riunione di questo genere con tutti gli attori sia professionisti che politici che aziendali per poter promuovere una campagna forte per la prevenzione cardiovascolare.